A nome di tutti, se da Roma accendono un faro su una città, su una piazza, su un cinema, è sicuramente grazie a voi, quindi non è che ci mandano gli ospiti così. Se questi risultati noi li abbiamo, ovviamente, no? Facendo il tuo conto a Silane da quelli che sono viventi, è grazie a voi che siete qua stasera, grazie a chi è stato qua nei giorni scorsi, due settimane fa non mi ricordo neanche, che abbiamo avuto anche Luca Marinelli, insomma, vogliamo solamente ringraziarvi per tutto quello che voi fate per noi e noi cercheremo, insomma, di fare ancora di più. Grazie, iniziamo subito col film e ci vediamo tra un po' tempo con l'anno e con le nostre ospite.